Si è concluso con due condanne e due assoluzioni. Una prescrizione, il filone ordinario del processo nato dall'indaggia denominata Coleos, scattata nel luglio del 2020, che ha riguardato un traffico di sostanze stupefacenti tra la Locri della Sicilia, in particolare le province di Messina e Catania, e anche in Puglia, nello specifico le province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Nel tardo pomeriggio di ieri il Tribunale di Locri, presiduto da Rosario Sobrio, giudice all'Atere Mariano Robertiello e Raffaele Lico, all'esito della Camera di Consiglio, ha decretato la condanna dell'imputato Antonino Ferrinda di Oppidoma Mertina a 11 anni di reclusione, seppur assolto da due capi di imputazione perché il fatto non sussiste. L'altro imputato condannato è Cateno Russo di Acireale, cui sono stati inflitti complessivamente otto anni di reclusione, più una multa di 30.986 euro. I giudici di Locri hanno inoltre dichiarato di non doversi procedere nei confronti del sanluchese Domenico Pelle, assistito agli avvocati Salvatore Pelle e Maurizio Punturieri, perché il reato contestato al capo 16 è estinto per intervenuta prescrizione. Ancora il collegio penale ha assolto Rocco Gligola di merito portosalvo, difeso dall'avvocato Cosimo Albanese, da tutti i reati con formula per non aver commesso il fatto, ha assolto anche il sanluchese Bastiano Mammoliti, difeso dagli avvocati signati Effemia. Anche in queste circostanze per tutti i reati con formula perché il fatto non sussiste.